ciao a tutti bentornati con quest'arma torniamo in Italia e lo facciamo alla grande questa carabina è un ADC dall'era custom in 2.23 bellissima vi anticipo che ha fatto la folla allo stallo del poligono quando stavamo sparando dobbiamo sapere tutti con che arma stessimo sparando piattaforma AR-15 fab defense ovunque end guard in alluminio è stato benissimo canna 12.5 Lothar Walter quindi pesante è davvero una bell'arma peccato per alcune mancanze di cui parleremo la prossima volta ve la faccio vedere meglio favolosa leggerissima precisissima solo con le tacche di mira siamo tacche di mira in minino siamo riusciti a fare veramente dei risultati ottimi monteremo poi un'ottica alla prossima per una recensione più dettagliata analitica intanto se avete delle domande già da formi fatelo nei commenti magari le analizzeremo insieme alla prossima ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti